La lunga pausa estiva è ormai alle spalle, non solo gli studenti, anche i consiglieri comunali sono ormai pronti a fare ritorno tra i banchi di Palazzo Mezzabarba per la ripresa dei lavori. Nei giorni scorsi infatti la conferenza dei capigruppo ha delineato il piano delle attività per il mese di settembre appena iniziato. Il Consiglio Comunale verrà convocato in due date, giovedì 19 e lunedì 23 settembre. La prima seduta si preannuncia già piuttosto calda, visto che all'ordine del giorno vi è la discussione delle linee di mandato del sindaco Lissia. I consiglieri comunali di opposizione preannunciano diversi interventi in merito. Decisamente più tecnica è la delibera relativa al bilancio consolidato dell'ente, argomento che dovrebbe andare sempre in discussione nella serata del 19 settembre, anche se l'ordine dei lavori è in fase di definizione in questi giorni. Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno in una delle due sedute anche alcuni debiti fuori bilancio ed una variazione del documento economico-finanziario del Mezzabarba. Così, come confermato del Presidente del Consiglio Comunale Castagna, si conta poi di procedere entro settembre all'elezione del Presidente della Commissione di Garanzia e dei rappresentanti del Comune nella consulta delle scuole d'infanzia. Delicata sarà la scelta del Presidente della Commissione di Garanzia, che spetta, come è noto, all'opposizione. Per il momento, secondo quanto riferito da fonti interne al centro-destra, non vi sarebbe ancora la convergenza su un nome in particolare. E come sempre accade, la prima ora di discussione del Consiglio Comunale sarà dedicata al Question Time, con le interrogazioni presentate dai singoli consiglieri.